Allora, video di Grand Theft Auto Vado a fare il colpo al caglio perico quello su cui avete visto tutta la preparazione quindi adesso sono in casa faccio anche tutta la di andare in ufficio, diventare presidente chiamare il cosacca e via dicendo ah già che non c'è più la macchina ho lasciato la macchina al nightclub uso questa nell'ultima sessione ho lasciato la macchina al nightclub quindi uso questa come detto adesso vado in ufficio divento membro dell'ufficio e così posso chiamare il cosacca vedete anche qua mi dà gli avvisi che ho finito tutta la preparazione e quindi posso far partire il colpo a meno che non si abbia voglia di fare altre perillustrazioni o prendere altri strumenti di cui comunque ovviamente non ne ho bisogno quindi adesso divento presidente consigliere ok si ok non prendo niente non vado non compro niente non compro casse non compro carichi macchine eccetera solo per attivare il CEO e andare a comprare e andare a richiamare il cosacca per far partire il colpo per far partire il colpo ok quindi poi caricherò i video sia sulla preparazione perillustrazione non ho fatto video sulla preparazione le emissioni di preparazione perché quelli li potete trovare però la perillustrazione li carico quindi adesso vado in spiaggia e chiamo il cosacca così mostro gli obiettivi e faccio partire anche il colpo l'oracle l'avevo lasciata al nightclub nell'ultima sessione e mi sono dimenticato di portarla in garage e mi sono dimenticato di portarla in garage e mi sono dimenticato di portarla in garage siamo dimenticato di portatile in garage subscoi anche il casacca la macchina la lascio qua ed io adesso vado in spiaggia chiamo il cosacca via ho scoperto che se riesco a finire nel frattempo vedete che ha caricato anche il nightclub i soldi quindi va bene 145.000 dollari ecco un consiglio se avete il nightclub comprate la miglioria quella che non fa diminuire o lo fa diminuire molto di meno la popolarità del nightclub e aumenta anche l'entrata invece che i 10.000 dollari 50.000 dollari quindi Cossacca richiede il Cossacca adesso prendo la moto d'acqua e vado sul Cossacca adesso dalle yacht c'è questa missione questo mese che se fate una serie di missioni legate allo yacht vi da un milione nelle fatte 3 dovrebbero essere 6 comunque chi gioca al GTA online sicuramente avrà visto l'avviso di questo mese comunque adesso vado sul Cossacca faccio vedere il video della schermata di pianificazione e avvio il colpo ok ecco qua attivo lo schermo di pianificazione vedete missioni preliminari obbligatorie completate ora poi c'è colpo conclusivo può essere iniziato oppure puoi fare ulteriori cose quindi allora vedete qua ho trovato tutto ma quelli allora questi sono una volta trovati non vengono cancellati altrimenti bisognerebbe rifare tutta la perlustrazione da zero quindi gli obiettivi extra vedete trovati allora manca denaro probabilmente c'è qualche hangar che non ho qualche magazzinetto che non ho visto quindi lo stesso vale per erba e bicarbonato mentre avete ore dipinti si trovano solo nella villa e quindi armi giudotto antiproiettile allora ma questo lo compro dopo allora compro il silenzuatore ovviamente allora vedete il veicolo di approccio ho preso il motoscafo ormai mi sono abituato a usare il motoscafo perché tanto viene lasciato lì è un motoscafo come vedete rubato quindi uso il motoscafo e posso arrivare anche perché se vi adesso vado a vedere obiettivi extra non questi elementi elementi di interesse ecco vedete abiti da guardia trovate un abito da guardia quindi a maggior ragione posso usare il motoscafo come detto veicolo di approccio uso il long fin l'equipaggiamento vedete ho trovato tutto torcia al plasma per la tecca dove c'è dentro il diamante rosa simulatore di impronte per entrare nel cavo la torcia a gas per tagliare le varie grate e via allora gli obiettivi come ho detto ah abbiamo detto gli obiettivi l'obiettivo principale è diamante rosa nella tecca quindi serve per quello che serve la torcia al plasma gli obiettivi extra li avete visti l'idea di puntare sui due bicarbonati dentro nel l'idea di puntare sui due bicarbonati all'aeroporto come faccio il colpo ovviamente usando il long fin andando nel molo secondario per sicurezza come ho detto ho trovato anche i vestiti e quindi potrò girare con più tranquillità quindi armi cospiratore questa qui fucile con una certa precisione la pistola e comunque col silenziatore serve perché se si va in casa adesso quindi avvio il colpo conclusivo acquisto anche il giubbotto perché non si sa mai conferma non chiavo nessuno gioco da solo e via ok di nuovo allora veicoli approccio o solo il long fin via punto di infiltrazione modo secondario ingresso nel complesso canale di scolo gli altri li puoi attivare se hai trovato che so il camioncino eccetera perché avevo trovato il camioncino punto di fuga facciamo di nuovo il mollo secondario nord eccetera momento servo il giorno sette armi quello non metto squadra di supporto non metto quota la squadra e niente quindi continua e avviamo il vado vestito da contrabandiere la maschera potrei anche non metterla e avviamo il colpo ok adesso vedete arriva qui ovviamente il punto dove si schianterà contro la roccia perché arriva a tutta velocità ma qua è riuscito allora io quindi adesso devo seguire questo motoscafo entrare nel porto questo qui parla sempre certo le prime guardie sono bianche perché sono tra virgolette amichevoli io devo solo lasciare il motoscafo qua devo stare attento che c'è quella che guarda vedete questa mi fa entrare mi butto in acqua e vengo sull'amaretto non importa via ok ah lì ok il guardiano li lascio fare il giro dell'isola e va bene quelli qui non mi vedono ora mi avvicino mi cambio d'abito adesso sono vestito da guardiano adesso li passo qui dietro dovrebbe esserci qui una moto se no vado a piedi all'aeroporto c'è una moto ok il guardiano di spalle non mi vede vado all'aeroporto culo a moto vedete che i guardiani comunque sono ancora segnalati in rosso perché non si filano lascio qui la moto perché se no fa un po' di humor allora qui c'è un guardiano che cammina davanti all'ingresso io potrei anche entrare ma dopo devo usare il muletto perché è andato al secondo piano e non vorrei che mi senta quindi siccome da qui non lo vedono uccido lo devo uccidere mi spiace non deve vedermi e anche questi non devono vedermi sono qui un vetto qua dietro se questi qui mi vedono con le tecchielli la telecamera è poi diventata bianca ma non mi fido comunque loro se mi vedono con l'arma ovviamente gridano quindi adesso il guardiano fa il giro tra un po' comincerà a girarsi ok lo devo uccidere lo stesso perché se cammino qua io devo andare al secondo piano e devo usare il muletto e il muletto fa un po' di rumore no non ne fa molto stiamo perché di solito ah vedi che adesso mette la barra del rumore vedete che la barra del rumore occupa tutta la stanza quindi il problema è che se c'è il guardiano sente il rumore e che cosa fa viene qua quindi adesso non qua adesso scalo il muletto e vado su ok taglio la serratura e vedete il blocco a destra è quello del bicarbonato e ora posso prenderlo dipende dipende butta dentro butta dentro butta dentro tutto 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 vedete mezza borsa 225 mila quasi l'altro l'altro pacco è nell'hangar secondario sempre dall'aeroporto come fare a colpirlo io vado qui vedete vi passo davanti la telecamera mi segna bianco però io di questo non mi fido quindi non riesco a sparare mentre cammino quindi ok adesso ho ancora abbastanza notato la telecamera è diventata bianca quella telecamera li punta vedete all'ingresso quindi adesso potrei benissimo saltare giù butto via l'arma così questi due non mi dicono niente c'è lì un guardiano che sta sbirciando da questa parte quindi adesso aspetto che si gira io entro di corsa la telecamera continua a guardarmi ma io sono segnato come vestito guardiano quindi adesso porto via porto via il guardiano adesso è tornato da questa parte adesso aspetto che si rigira ho riempito il borsonetto e 450 mila dollari io adesso andrò a prendere il diamantone che vale tipo un milione e tre io adesso mi metto a coro ok e la seconda e la parte la prima parte del colpo vedete si può consigliare andata a segno io adesso prendo la moto torno al molo e vado a prendere il motoscafo per andare a buttarmi sotto le fogne della villa le telecamere non mi hanno avvisato sono rimasto bianche erano e bianche hanno fatto il loro lavoro ok sono tornato al molo secondario adesso devo trovare il modo di entrare nel molo prendere un lice una guardia ok vedete sono passato pure davanti ok e la parte del colpo è andata bene io adesso vado alla villa e vado a rubare il diamante un milione e tre di questi 450 mila circa poi ci saranno gli 80 mila nella nella cassaforte dell'ufficio insomma speriamo che vada tutto bene come ho detto giocando da solo e dovendo passare anche dalla parte esterna dell'isola sicuramente non farò mai il record di tempo anche se stavolta sono stati il computer è stato buono nel senso che mi ha messo i due pacchi vicini nella stessa zona e ho messo meno tempo ecco e qua sono in vista della villa ora arrivo sotto la scogliera e mi butto e vado ad aprire la cosa dovrei provare una volta a fare l'ingresso dal cancello per fare l'ingresso dal cancello dovevo prendere il camioncino fare tutta la per fare l'ingresso dal cancello dovevo prendere il camioncino quel che c'era là al porto e venire qua a seguire la strada comunque adesso via giù ora via con la torcia a gas per tagliare la gratta qua e via 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 taglia 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 via 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 più che altro anche per evitare tutta sta scena di cui ovviamente non finirò mai di lamentarmi sull'irrealismo di questa scena ma la prossima volta provo a prendere il camioncino a vedere come funziona entrando dalla villa col camioncino vestito da guardia e col camioncino cosa dicono le guardie cosa dicono o non dicono qui nuota 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 ok mezza vita invece che un quarto sono rimasto con mezza però va bene comunque meno male che questo diventa un punto di salvataggio se dovessi morire sperando di no ripartirebbe comunque la qua comunque 448.000 no